Sceglie la strada dello sport e della cultura per avviare il riscatto sociale della sua città. È un'altra scelta dell'avvocato del popolo che fa il sindaco da due anni. È la giusta direzione contro ogni forma di disagio giovanile, dice Francesco Metta, specchiandosi nei numeri dell'audace Cerignola, la squadra di calcio del gruppo grieco che sta facendo le cose alla grande, non tralasciando il settore giovanile. Molti giovani di Cerignola adesso sanno che fare invece di stare nelle strade. Metta fa i complimenti a Rosario Marino, dirigente responsabile del settore giovanile dell'audace e uomo di fiducia del presidente grieco. Sul percorso della crescita sociale il sindaco, oltre lo sport, ci mette anche la cultura. Anche qui il coinvolgimento dei giovani è determinante. Metta vuole riempire il teatro mercadante di giovani. D'ora in poi ingresso libero per gli studenti delle scuole superiori. Il sindaco, insieme all'assessore Petruzzelli, fresca di nomina, e al titolare delle politiche giovanili Carlo Dercole, ha definito e concordato un programma di eventi che cattureranno le attenzioni del grande pubblico. Sport e cultura per il riscatto sociale. La formula sarà vincente, dice l'avvocato del popolo cerignolano.